benvenuti a giardino rivelato podcast di esplorazione poetica dell'arte dei giardini siccome parliamo di esplorazione poetica dell'arte dei giardini oggi ho voglia di utilizzare un po la poesia per parlare dei giardini anzi un poeta in particolare francesco petrarca del quale non mi sembra caso di spiegare nulla se non un particolare che mi è venuto in mente io mi ricordo e se non è così vi prego di farmelo sapere commentare in qualunque modo mi pare di sapere mi pare di ricordare che quando è morto petrarca è stato trovato alla sua scrivania con una copia delle neide in mano mi piace molto perché intanto perché virgilio era un po il suo idolo era l'idolo di francesco petrarca era quello a cui lui tendeva infatti l'opera che lui voleva scrivere l'opera a cui puntava per ottenere la gloria non erano tanto i suoi canti le sue opere in volgare italiano quanto l'africa che è un'opera in lingua latina in ogni caso è stato trovato con questa copia delle neide ovviamente manoscritta perché non esisteva ancora la stampa caratteri mobili e la cosa che mi piace tantissimo è che lui utilizzava i libri che lui amava quindi dei manoscritti miniati fatti da manuensi quindi libri di un valore inestimabile li utilizzava come diario personale e nello specifico le neide lo utilizzava come diario di annunci di morte di persone che lui conosceva o che gli rimanevano impresse quindi lui prendeva questo libro e scriveva come glossa come nota a margine come nota laterale sul foglio di carta oggi è morto tizio oggi è morto caio evidentemente si prese conto che stava per morire e se l'è presa in mano oppure no lo leggeva continuamente e per caso è morto quel giorno beh in ogni caso noi sappiamo che accanto alla sua opera poetica di studio di tutto quello che lo interessava lui si occupava tanto del giardino e non solo dello studio dell'arte giardiniera ma anche proprio del farlo lui lui aveva avuto vari giardini ha avuto il giardino in valchiusa in provenza ha avuto tre giardini in italia a milano ad arqua e a parma e di questi giardini abbiamo informazioni proprio in un libro che lui leggeva e che consultava spesso questo libro si chiama opus agricolture oppure de agricoltura ed è un libro di palladio ma non andrea palladio l'architetto del sedicesimo secolo parliamo di rutilio tauro emiliano palladio palladio un autore del quarto secolo dopo cristo e questo libro era composto da 14 parti 12 dedicate ai lavori da fare mese per mese un'introduzione e poi un finale in versi sull'innesto e su questo libro lui scrive scrive considerazioni scrive quello che fa mi rimase moltissimo impresso durante una lezione al primo anno di università quando il professore ci raccontò che si trovava tra queste note di lui che parla di un giorno un sabato in cui stava facendo dei lavori con degli allori stava facendo un boschetto sacro passa di lì boccaccio e gli dà una mano a piantarli a trapiantare delle piante a vedere come veniva era una cosa che mi piaceva da morire perché mi viene da pensare a quando a noi adesso fa strano un po un po effetto fan quando vedi quando vedi due personaggi famosi che ti piacciono che si che che si frequentano nella vita quotidiana ora immaginate trovare un libro un una nota di un diario datata 16 marzo 1359 milano e l'insegne signor giovanni boccaccio da certaldo passa e mi aiuta a dare a piantare a trapiantare questi alberi è una cosa incredibile ma la cosa che mi piace tanto è il modo in cui lui parla di questa attività perché ne parla come ne parliamo ancora noi parma 1349 4 febbraio luna sedicesima tra l'ora nona e il tramonto tempo nuvoloso ed umido ma senza vento ho trapiantato un melo non molto vecchio ma di più anni da un luogo più lontano alla casa ma ombroso ad uno più vicino ma soleggiato in una fossa abbastanza profonda ma senza concime o altro aiuto esterno coperta con terra nera e grassa rincalzata alla perfezione e poi aggiunge delle sue note piace aspettare il risultato finora niente alla fine si è seccato è bellissimo è bellissimo perché sono esattamente così tutti i diari di coltivazione di giardinieri di contadini che sono attenti a quello che fanno quotidianamente è un diario di bordo di un marinaio e il diario di un contadino anche le lune credo che adesso si sia smesso di contare le lune ammetto che si tratta di una lettura parecchio prosaica si tratta di semplicemente di annotazioni di uno che sul proprio libro che riguardava quell'argomento si era segnato delle cose per tenere a mente come svolgere lavori in futuro probabilmente o magari solo perché era un grafomane oppure perché ci teneva a tenere a mantenere la nota di quello che aveva fatto non è una lettura edificante in sé per sé sono degli appunti personali eppure noi andando a leggere testi di questo tipo testi personali più o meno tecnici di un qualcuno che viveva in un'epoca in cui non c'era accesso a tutto quello che noi possiamo vedere leggere e conoscere di un qualcuno per cui la conoscenza scientifica del xvi secolo era già fantascienza quindi andando a vedere cose di questo tipo approcci di questo tipo noi comunque possiamo imparare a capire umanamente come porci di fronte alla conoscenza guardare da pari a pari persone del passato sulla nostra stessa linea temporale un po come si fa con i filosofi se io studio hegel se io studio tommaso d'aquino se io studio nice non lo guardo come qualcuno disuperato lo guardo come qualcuno che io ho di fronte a me ugualmente se io leggo una qualunque cosa scientifica superata ovviamente che nessuno più ritiene valida al giorno d'oggi non mi metterò nei suoi confronti in una posizione di superiorità perché perché lui sta affrontando il mondo intorno a sé con gli strumenti che ha a disposizione che gli vengono concessi dalla cultura del suo tempo dalla scienza del suo tempo dalla conoscenza del suo tempo esattamente come facciamo noi se andiamo a guardare nello specifico petrarca con una certa perizia parlava del terreno allagato parlava delle fasi della luna parlava dell'attendere il risultato cioè è un modo estremamente moderno di intendere la coltivazione di intendere una tecnica come quella del giardinaggio una tecnica agricola e soprattutto lui lo faceva per piacere non non lo faceva solo per coltivare delle verdure per cose da mangiare aveva giardini di vario tipo per lo più aveva un giardino naturalistico dove andare a riflettere aveva un giardino formale dove accogliere le persone e parlare aveva poi anche l'orto cioè aveva una grande varietà di giardini e quindi aveva una grande varietà di pensieri perché fare giardinaggio era un modo per lui per studiare ora se c'è un'altra cosa che ricordo della letteratura al liceo è che petrarca il primo uomo moderno è il primo uomo a sentire la divisione lui sa che non è un tutt'uno con la natura lui sa che è diviso in se stesso lui sa che magari vorrebbe fare delle cose però non riesce allora c'è questo dissidio interiore pace non trovo e non ho da far guerra lui cammina cammina il primo uomo a salire su una montagna tanto per tanto per è l'uomo che inventa il paesaggio e su questo faremo un altro episodio per perché bisogna parlarne però è importante anche se lui non ci dice nulla di nuovo dal punto di vista scientifico imparare da lui come noi possiamo utilizzare i nostri occhi c'è da dire un'altra cosa che petrarca si dedicava al proprio giardino anche durante le pestilenze anche durante la festa del 1348 lui stava lì e coltivava e cos'è che coltivava coltivava il giardino come dice volter coltivava se stesso perché la cultura e la cultura vanno a braccetto vanno di pari passo perché io nel momento in cui mi metto di fronte alla sfida del momento moderno del presente di me stesso nella natura sono costretto in qualche modo a edificarmi a crescere a farmi germogliare e se non lo faccio muoio esattamente come le piante che petrarca aveva visto con dispiacere morire e noi facciamolo sfruttiamolo in questo momento di detenzione forzata fatta per noi e fatta per la comunità fatta per le persone a cui teniamo e soprattutto facciamolo come lo ha fatto petrarca cioè in margine a quello che amiamo utilizziamo quello che amiamo per conoscere meglio il mondo che abbiamo intorno sfruttiamo le spalle dei giganti prima di noi e annotiamo sulla loro testa quello che possiamo osservare grazie al loro sforzo precedente facciamolo perché è il senso del giardino è il senso della crescita è il senso della coltivazione di se stessi e del luogo in cui si vive perché se noi non impariamo a sfruttare quello che abbiamo il luogo che abbiamo la cultura che abbiamo gli strumenti tecnologici internet e tutti i libri a cui abbiamo accesso attraverso biblioteche gratuite e non anche ma infinite dati di conoscenza se noi non li sfruttiamo è uno spreco uno spreco di spazio uno spreco di energie uno spreco di vita noi coltivandoci e dando attenzione a tutto quello che ci sta intorno possiamo trasformare la nostra vita quotidiana sempre di più in un giardino fiorito in un paradiso siamo arrivati alla fine e ci salutiamo prima di salutarci vi ricordo che potete trovarci su instagram giardino rivelato li potete scriverci potete mandarci foto di giardini che vi piacciono di giardini vostri consigliarci argomenti di cui parlare e taggarci utilizzare l'hashtag giardino rivelato potete scrivere anche a me mi trovate su telegram al nome francesco trattino basso cecchetti e detto questo ci salutiamo e grazie dell'ascolto grazie a tutti grazie a tutti